Un buon poveriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori, sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per questo motivo si sono formati 4 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Imprunita. Sempre in direzione Bologna, ma per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per la complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. E rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e Badia. Per traffico intenso, code in direzione Roma tra Aglio e Calenzano. Sulla A12 in direzione Genova, traffico rallentato tra Pisa Centro e il bivio per la A15. Sulla FIPV per lavori, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e il Comune di Firenze. Buon viaggio!